Qual è l'evoluzione del concetto di tempo nel paradigma terapeutico del paziente con leucemia linfatica cronica? Ne parliamo con il professor Paolo Sportoletti che abbiamo sentito al convegno leucemia linfatica cronica tempo per vivere promosso a Roma d'Abvi a Palazzo Ferraioli. Quali sono state le evoluzioni e i progressi nelle cure per la leucemia linfatica cronica? Nella leucemia linfatica cronica abbiamo assistito negli ultimi dieci anni a una vera e propria rivoluzione terapeutica. In passato utilizzavamo dei farmaci a base di chemioterapici, oggi siamo in grado di utilizzare quelle che si chiamano terapie intelligenti con quei cosiddetti farmaci a bersaglio terapeutico che servono a colpire la cellula leucemica risparmiando le cellule sane e sono farmaci assumibili per bocca, sono farmaci che raggiungono il loro piccolo bersaglio all'interno della cellula con un grande risultato in termini di efficacia e di tollerabilità. Qual è stata di conseguenza l'evoluzione del concetto di tempo nel paradigma terapeutico? Nella linfatica cronica il tempo è un elemento importante, è una patologia cronica che quindi ha una durata piuttosto lunga. Quando poi dobbiamo trattare questi malati siamo abituati a utilizzare dei farmaci che pur essendo target intelligenti hanno un utilizzo continuativo nel tempo. Quello che negli ultimi anni sta succedendo è che torniamo a delle terapie intelligenti che sono limitate, che possono essere utilizzate per esempio per un tempo limitato di un anno o di due anni a seconda se siamo in prima o in seconda linea di terapia. E questo è un grosso vantaggio in termini pratici anche perché oltre a essere farmaci orali questi farmaci vengono assunti per un periodo limitato nel tempo dando un grosso beneficio al paziente che non deve essere trattato in maniera continuativa. Ecco, come mai questi farmaci possono essere sospesi? La novità che questi farmaci hanno dimostrato, in particolare Venetoclax, è la grossa e profonda efficacia. L'efficacia significa un farmaco che è in grado di distruggere tutte le cellule leucemiche anche quelle residue, quelle poche rimanenti e questo si trasforma in una profondità di risposta. È l'elemento della profondità di risposta il cardine su cui si concentra la possibilità di una terapia che si ferma. La terapia si ferma perché riducendo al minimo le cellule neoplastiche non abbiamo necessità di tenere sotto pressione questa malattia e quindi possiamo interrompere la terapia per un lasso di tempo il più lungo possibile.